La squadra deve giocare con questo piglio, deve sapere che questo è un campionato difficile, un campionato dove ci possono stare anche sconfitte pesanti, ma non deve mai mancare l'atteggiamento di una squadra che gioca, ma principalmente che sia aggressiva in campo, sia volitiva, sia vogliosa. E quindi questa è la strada nostra, perché deve essere la filosofia del Frosinone per fare questo campionato. Abbiamo parlato, c'è il direttore, il presidente, sono molto attenti su questo. Ripeto, se ci sono delle opportunità le valuteremo, ma in questo momento non è che una società deve prendere... ci devono essere delle opportunità. Se ci sono, so che sia il presidente che assolutamente si tira indietro, sia il direttore, siamo attenti a queste situazioni. Io devo dire la verità, sono rivolto e non mi voglio far portare via nemmeno un minimo di energia dal mercato, ma tra l'altro è un momento molto difficile per un allenatore a allenare durante il mercato, è stata una sessione troppo lunga, dove ci sono tante teste che poi non è facile tenerle applicate, perché sentano, leggono, arrivano chiamate, quindi io non vedo l'ora che chiuda.